Buonasera e davvero ben ritrovati al concerto appuntamento con la voce delle istituzioni che ha subito doverosamente uno stop a causa dei fatti legati al Covid e le difficoltà di fare delle registrazioni in studio. Ma riprendiamo in questa giornata del primo giugno con un'attività molto importante che è l'attività sindacale, visto che il mondo del lavoro è un pochino in sofferenza. Il primo ospite che abbiamo è Rudy Ruffaret, del segretario generale aggiunto della Cisla di Belluno e Treviso. Naturalmente l'argomento d'obbligo è quello del Covid, qual è il panorama nel dopo Covid per il mondo del lavoro? Beh, intanto un saluto a tutti i telespettatori, grazie per avermi ospitato. Allora, noi come Cisla siamo sempre stati assolutamente sul pezzo, come si dice, abbiamo affrontato tantissimi temi. Il primo sicuramente era mettere in sicurezza i lavoratori, abbiamo fatto il periodo di lockdown, ma la nostra preoccupazione era anche la ripresa, perché siamo consapevoli che soltanto con la riepertura delle attività ci consente e ci ha consentito di dare un minimo di reddito e di continuità, quindi di salario ai lavoratori, ma anche un impulso all'economia. Ricordo che in questi mesi abbiamo fatto migliaia e migliaia di accordi di cassa integrazione di FIS, che è il fondo del settore terziario, abbiamo fatto gli accordi per la cassa integrazione dell'artigianato, non con poche difficoltà, perché la gestione di migliaia di lavoratori ha complicato la vita all'Inps, ha complicato la vita a noi, però in qualche modo siamo riusciti a gestirla. Dopodiché nella riepertura abbiamo firmato dei protocolli per la messa in sicurezza, quindi garantendo la salute ai lavoratori, questo naturalmente ha implicato degli sforzi anche da parte degli imprenditori, perché applicare protocolli di distanziamento, procurarsi le mascherine, gli gel non è stato assolutamente semplice, però era assolutamente un lavoro da fare, così come come sindacato, come CISL, in qualche modo già da diverso tempo su appuntamento stiamo cercando di assistere i lavoratori, chi un lavoro non ce l'ha, anche grazie ai numerosi strumenti che il governo ha messo in campo tra bonus, agevolazioni e quant'altro. La ripartenza che era desiderata da molte industrie, anche perché diventava complicatissimo pensare ad un futuro altrimenti. C'è stata una polemica, mi pare anche con toni non proprio eccellenti da parte del sindacato, nei confronti degli industriali che sembrava dovessero sfruttare i lavoratori, mentre mi pare che le industrie da noi abbiano sempre seguito scrupolosamente nella maggior parte dei casi le norme di sicurezza. Non è un po' esagerata questa posizione? Ma personalmente io più di tanto, quando dico io dico la CISL, non abbiamo seguito più di tanto le polemiche, c'è stato un momento di tensione ma dovuto anche al momento. Devo dire che i rapporti con, in particolare con Confindustria, ma con Confartigianato, con la CNA, con l'ASCOM sono assolutamente ottimi, ci siamo capiti subito per lavorare con un obiettivo comune. Chiaramente da una parte c'era, come dicevo prima, l'attenzione anche alla salute dei lavoratori, ma eravamo e siamo assolutamente consapevoli che oggi tutelare i cittadini e i lavoratori vuole dire anche riaprire le attività economiche. Noi ci siamo assolutamente mossi in questo senso, in accordo anche con Confindustria. È preoccupato per il panorama che si profila all'orizzonte con la Cassa Integrazione che finirà tra qualche settimana. Sì, siamo preoccupati ma non ci fermiamo alle preoccupazioni perché il lavoro fatto anche a livello nazionale e regionale, perché ci sono risorse anche a livello regionale, penso all'artigianato, è assolutamente forte e costante che sono convinto ci permetterà di portare a casa ancora risorse. Quelle attuali ci danno qualche mese di respiro ma non sono sufficienti. Qual è il motivo? Il motivo è che se da un lato abbiamo anche qualche ballume di ripresa, penso al turismo, abbiamo visto in questi weekend di bel tempo come la gente sta venendo nel nostro territorio, bisogna anche dire che il virus sta facendo il giro del mondo a tappe, quindi c'è un drammatico calo dei consumi a livello internazionale, pensiamo alle nostre produzioni, gli occhiali piuttosto che nel metallo meccanico e questo farà sì che gli ordinativi già oggi comunque in calo rimarranno costantemente in calo anche nei prossimi mesi. Però dentro questo contesto io sono assolutamente convinto e lo abbiamo ribadito più volte in queste settimane che ci sono delle opportunità per il nostro territorio. Questa pandemia ha accelerato quello che era un processo comunque e fortunatamente già in atto che è quello di Industria 4.0. Rivedere un pochino il mondo della produzione, è una corretta lettura la mia? È quello che stavo dicendo prima, noi siamo convinti che anche per le imprese bellunesi ci sono delle opportunità, sono due temi. Industria 4.0 con tutto quello che poi ho collegato alla tecnologia. Noi abbiamo tantissime aziende che hanno già invertito le produzioni, i modi di produrre, ma c'è anche il passaggio alle energie rinnovabili e in questo contesto anche qui ci sono delle aziende che sono strettamente collegate a questa filiera. C'è una condizione che però è importante, noi dobbiamo essere attrattivi, quindi dobbiamo avere capacità di far venire qui capitali e rafforzare le nostre imprese, ma dobbiamo puntare tantissimo e ancora di più con convinzione sulla formazione ai lavoratori, sia quelli che il lavoro ce l'hanno, perché Industria 4.0 vuol dire tecnologia e quindi vuol dire competenze, ma anche la Green Economy vuol dire competenze, ma fare formazione anche chi oggi rischia di perdere il posto di lavoro. Noi dobbiamo capire quali sono le tendenze, quali sono le competenze, tant'è che con la provincia abbiamo comunque nei prossimi giorni in calendario di riunirci proprio per dare seguito al tavolo che lavora su questo. Dopodiché, lo faccio proprio tre secondi, noi siamo convinti che dobbiamo puntare ancora di più sulla scuola. L'università, l'esperienza della LUIS deve essere solo in inizio per riportare qui a Beluno un minimo di università, ma dobbiamo potenziare anche la scuola perché ne vale il nostro futuro. Diciamo che la specializzazione farà parte anche del mondo del lavoro. Sì, il concetto è questo. Ormai è chiaro che la formazione deve accompagnare la persona dall'inizio alla fine e la dico così, oggi non è più semplice nemmeno gestire un bar, quindi la formazione è fondamentale. Lo smart working, che era già come pratica utilizzato precedentemente, però ha fatto la sua irruzione nel mondo del lavoro. Questo cambierà un po' anche il metodo di stipula dei contratti di lavoro. Sì, mi viene da sorridere perché uno degli aspetti positivi del coronavirus è che ci ha fatto accelerare su diverse cose che da tempo come sindacato chiedevamo. Sicuramente il lavoro agile, perché smart working vuol dire questo, il lavoro agile che è un po' diverso dal telelavoro, ha finalmente fatto capire che si può fare e se si fa in maniera intelligente diventa una risorsa per la famiglia, per i lavoratori, ma anche per le aziende. È chiaro che però pone alcuni problemi, noi li conosciamo, vanno assolutamente contrattati perché per esempio bisogna mettere le condizioni ai lavoratori di lavorare da casa, bisogna comunque mettere delle regole chiare, avere fiducia reciproca e quindi questa cosa va fatta nella contrattazione. Ma devo dire che anche il mondo produttivo sta cambiando, le riorganizzazioni del lavoro, si stanno discutendo di turni, si stanno discutendo, parlavamo prima di tecnologia, di industria 4.0, quindi è evidente che noi siamo di fronte a una stagione di contrattazione aziendale soprattutto, ma anche nazionale, che metterà sindacato e imprese nelle condizioni di poter vedere un mondo nuovo del lavoro e da questo punto di vista noi siamo ottimisti perché aumentando anche la produttività deve essere chiaro che può aumentare anche il reddito dei lavoratori che per noi oggi è molto basso. Senti, la differenza tra telelavoro che sarebbe il lavoro a distanza ma fissa come pratica e il lavoro agile è che si può alternare l'uno e l'altro e forse questa è la differenza. Sì, diciamo che il telelavoro non è neanche una novità perché noi abbiamo molte imprese, penso per esempio a tutto l'indotto dell'occhialeria, degli astucci ma anche il tessile a suo tempo in cui da casa si facevano alcune lavorazioni ma anche i call center erano telelavoro. Diciamo che il telelavoro è una postazione fissa. Il lavoro agile ti permette proprio una flessibilità per il lavoratore, quindi non è il luogo fisico, non è dove fai tu il lavoro ma è come tu ti metti d'accordo con l'azienda nel fare un certo tipo di lavoro che spesso, sempre più spesso, è un lavoro anche di concetto, è un lavoro comunque di alte competenze. La pandemia ha evidenziato anche una debolezza della struttura industriale, non solamente bellunese ma dell'Italia e dell'Europa che è stato un processo di internazionalizzazione, sempre visto benissimo ma che ha rimarcato ora tutti i suoi difetti e si pensa ora di riportare in Italia le produzioni chiamando questo passaggio filiera corta. È secondo lei pensabile, possibile o la Cina rimane sempre troppo competitiva e prendo la Cina come esempio per tanti altri paesi a costo del lavoro bassissimo? No, è assolutamente così. Il coronavirus sta mettendo in discussione quello che già era in atto prima. Noi avevamo già aziende che nel corso dei decenni avevano delocalizzato e stavano riportando le produzioni quanto meno in Europa se non proprio in Italia. C'è un problema di quantità e di qualità. È vero, la Cina ha raggiunto qualità importanti ma per esempio non è in grado di produrre piccole quantità che è un po' il dogma della produzione degli ultimi anni. La filiera corta per esempio anche a scapito di un costo del lavoro sicuramente più alto permette però di avere un controllo delle fasi di lavorazione e quindi noi abbiamo già segnali di aziende e di multinazionali che stanno riportando le produzioni in Europa e in Italia. Quindi questo è sicuramente un vantaggio. Dopodiché ci sarà sempre un paese che avrà il costo del lavoro più basso. Già oggi comunque la Cina non è più competitiva dal punto di vista del costo del lavoro. Ci sono ben altri paesi che sono ancora più a buon mercato. Però non si può mettere tutto nella logica del costo del lavoro. L'impresa lo stanno capendo, soprattutto quando parliamo comunque di competizione nell'alta tecnologia. Io credo, i dati lo dimostrano, che per esempio la fantasia italiana, l'arte italiana nel fare le cose è un pezzo vincente che gli altri non hanno. La filiera corta diventa fondamentale per assicurare continuità di fornitura alle nostre aziende. La teoria del ricatto economico da parte delle grandi potenze per le materie prime è una teoria credibile? Se non lavorate, mettete le aziende da noi, la materia prima col cavolo che l'avete? I temi sono sempre complessi. Ci sono tante situazioni che devono essere gestite. Pensiamo a quello che è successo con la guerra dei Dazi, per cambiare il paradigma. Quindi anche quello che dice lei è assolutamente vero. L'Italia per esempio non è un paese che storicamente ha materie prime, noi siamo un paese che trasforma. Però proprio per quello che dicevo prima, sicuramente noi siamo soggetti alle regole del mercato e quindi il petrolio piuttosto che qualsiasi altra materia prima. Però sono convinto che per quanto riguarda l'Italia ci tocchi soltanto di striscio questo problema. Molto velocemente Wambao, situazione che è migliorata dal punto di vista delle amministrazioni locali, della politica ma anche del sindacato perché è arrivato Maurizio Castro, il risolutore di tutti i problemi. Mi lasci dire una cosa con molta franchezza. Tutto il lavoro fatto alla Wambao, che è il lavoro che è stato fatto anche in altre aziende, penso alla ceramica Dolomite e ora alla Safilo, è la dimostrazione di come questo sindacato, il sindacato belunese, è un sindacato propositivo, che lotta insieme ai lavoratori, che combatte insieme agli imprenditori locali ed è un sindacato che tiene al territorio. La vittoria di Wambao significa la vittoria di un territorio. Noi l'abbiamo dimostrato più volte che in questo territorio c'è una grande capacità di essere produttivi, con un clima sociale, un conflitto sociale molto basso e quindi abbiamo questa capacità, questa marcia in più che altri territori non hanno. Io credo che questa, con orgoglio, sia anche una grande conquista delle nostre RSU, dei nostri iscritti, dei nostri lavoratori e quindi in definitiva anche del sindacato. La pandemia ha messo in evidenza quello che era evidente, però lo ha sottolineato ancora di più. Se c'è un settore strategico, più di qualsiasi altro in nostra provincia, il turismo e qui i numeri cominciano a diventare pesanti per quanto riguarda chiusure, non ripartenze e gente che perde il posto. Sì, l'ho detto in premessa, questo è un problema, noi abbiamo un problema di alberghi, quindi di ricettività. Devo però dire che questa pandemia può davvero far riscoprire quel turismo diverso che noi sosteniamo da tempo. Dobbiamo però favorire l'iniziativa privata che magari non sarà, non diventerà il primo reddito, ma può essere a corollario rispetto a una serie di attività. Allora noi dobbiamo incentivare per esempio i nostri giovani che si stanno buttando da tempo nella coltivazione di prodotti locali, adesso non facciamo per ordine di tempo o questione di tempo gli esempi, ma li conosciamo tutti, così come B&B, quindi la ristrutturazione dei nostri vecchi borghi, la riscoperta delle nostre montagne. Abbiamo comunque un'attività sportiva non di poco conto, penso soprattutto ai nostri laghi, alle camminate, alla bicicletta che davvero può offrire, se noi siamo in grado di garantire anche servizi, opportunità di lavoro, posti di lavoro e quindi è un turismo diverso dai nostri rivali, dai nostri competitor vicini di confine, ma secondo me davvero vincente proprio per un'offerta diversa che probabilmente è orientata anche a un pubblico diverso. Una domanda molto velocemente, a scuola si continua a studiare inglese, francese, tedesco e francese sempre meno per la verità, ma i nostri turisti arrivano dalla Cina, dalla Russia, dai paesi dell'estero. Non sarebbe il caso che anche il sindacato si muovesse per sollecitare le istituzioni scolastiche a prendere in considerazione lo studio di queste lingue, perché questo sembra perlomeno il nostro immediato futuro. Beh, la risposta è scontata direi di sì, sarebbe importante comunque rafforzare di organici le nostre scuole per permettere per esempio agli studenti di imparare bene l'inglese che è comunque la lingua del futuro, però è vero anche le altre lingue, ecco lei però mi dà l'assist per fare un ragionamento molto veloce. Io sono convinto, siccome noi abbiamo fatto una battaglia sullo spopolamento, abbiamo ideato il welfare territoriale, stiamo facendolo a contrattazione con i comuni, c'è finalmente, ma CGL e Cisleville hanno lanciato per primi questo tema anni fa, c'è un'attenzione davvero importante sullo spopolamento, ma noi dobbiamo essere attrattivi e quindi per esempio l'Università Belluno non deve essere una cosa che non può essere fatta. Confindustria ha lanciato la LUIS, che sono dei corsi di formazione universitaria importante e dobbiamo insistere sull'Università e sulla scuola, perché questo ci permette di trattenere una parte dei giovani, ma essere anche attrattivi. Ringrazio naturalmente Rudi Rofaré, obbligo i miei ospiti ad essere particolarmente sintetici, la cosa non è mai facile perché si rischia di dimenticare qualcosa, comunque grazie a Rudi Rofaré abbiamo riaperto questo spazio di contatto con le amministrazioni e con associazioni, categorie eccetera, buon lavoro a voi, ce ne sarà sicuramente tanto, grazie a voi per aver seguito e buona serata. Buona serata.